Nonostante una partenza col freno a mano tirato per via di alcuni problemi riscontrati nel sistema, il primo giorno di prenotazione dei vaccini anti-covid per gli over 80 ha fatto registrare un vero e proprio boom di richieste. In poco più di sei ore sono stati più di 22.300 gli anziani che in Puglia si sono iscritti nelle liste dei prossimi vaccinati a cui saranno somministrate le dosi Pfizer o Moderna a partire da lunedì 22 febbraio. Un dato corrispondente a circa il 10% delle persone individuate come aventi diritto, circa 206.000 ultraottantenni pugliesi. Che quello alle prenotazioni fosse un vero e proprio assalto lo si è capito già nelle prime due ore di attivazione del servizio partito alle 14 di ieri. Il sistema è andato subito in tilt per via dell'elevato numero di utenti, file nelle farmacie, linee telefoniche dei cupi intasate e problemi tecnici sul portale di Puglia Salute con la sezione prenotazioni a lungo non disponibile. Da questa mattina tuttavia il servizio online è stato regolarmente attivato. A subire l'urto maggiore dell'ondata di richieste sono state proprio le farmacie. Tantissimi gli over 80 che muniti di tessera sanitaria si sono presentati di persona fin dalla mattinata di ieri per ottenere la prima data utile per effettuare il vaccino. Non ci sono stati disservizi anche se in alcuni casi si sono registrate code di persone in attesa che arrivasse il loro turno. Tutto in regola nella BAT dove la ASLA ha attivato un apposito servizio di prenotazioni telefoniche attraverso il numero verde oltre a quelli già previsti presso i CUP e nelle farmacie. Nella prima giornata sono stati 3176 gli over 80 che hanno prenotato il vaccino nella sesta provincia. La stragrande maggioranza, 2987 anziani, lo riceveranno in ambulatorio mentre sono meno di 200 quelli che hanno scelto la somministrazione a domicilio. Entro la data del 22 febbraio, quando scatterà ufficialmente la fase 2 della campagna, le ASLA dovranno rendere operativi 136 centri vaccinali previsti inizialmente in Puglia, anche se progressivamente il servizio sarà garantito sull'intero territorio regionale con almeno un ambulatorio in ciascun comune pugliese.